ok salve signori e ben ritrovati in questo nuovo video un po particolare questa volta come vedete è un genere di video che non abbiamo mai portato però come abbiamo già annunciato nel precedente video ci proviamo proviamo a fare qualcosa di diverso spero si senta bene spero non ci siano tanti problemi tecnici anche perché facendo varie prove purtroppo mi sono accorto di dover abbassare addirittura la qualità ebbene sì stiamo registrando da una gopro di ottima qualità una gopro 08 principalmente mi era ballata l'idea di fare un un video con la massima qualità 4k 60 il problema che è sorto è che youtube in pago parole la qualità me la sminchia come se fosse il pane e la cosa non è che mi faccia tanto piacere allora ho preferito utilizzare altre impostazioni specialmente per quanto riguarda i programmi di video editing per quanto riguarda 1080 60 e spero vadano bene nel frattempo qui come potete vedere siamo imbottigliati nella minchiaggine della gente che non si capisce che caspito voglio fare salve salve arrivederci tra l'altro vi metterò un breve shorts per quanto riguarda la moto che vabbè vi spiegherò poi più tardi che cos'è la moto è un'onda xl 600 r dell'84 ebbene sì ben 30 minuti che vabbè vi spiegherò la moto è un'onda xl 600 r dell'84 ebbene sì ben 30 minuti che vabbè vi spiegherò da 9 anni è un enduro quindi non è proprio paragonabile ad un motard per cui ricordiamo ha sempre una ruota molto fina davanti cerchio da 19 ruote tacchettate non troppo però comunque si hanno i tacchetti medi e quindi insomma va fatto un po di attenzione su strada e nelle curve è una moto comunque che utilizzo ormai da due anni e che mi trovo tuttora abbastanza bene soprattutto perché è stato per lo più un affare ovvero questa moto in poche parole era da scasso pagata la modica cifra di 500 euro poiché era da buttare ed è stata completamente restaurata ed ora finalmente è tornata in funzione beh se devi passare vai visto che vai tanto di fretta io ti sorpasso e quindi mi sono ritrovato per le mani questa moto che comunque rientra perfettamente nei parametri della patente a2 il che mi permette perfettamente di poterla guidare su strada successivamente vedremo altre due moto importantissime che per il momento non svelo potrebbero esserci importanti sorprese ecco il perché comunque detto questo questo è solamente un video presentazioni poi magari grazie anche alle buonissime idee del signor detics parleremo di altri contenuti possibili di questo genere senza chiaramente classificare anche che grazie a questo nuovo acquisto però la gopro e tutto quanto il set i giri con gli skate e i nuovi acquisti con gli skate verranno fatti con questa telecamera quindi un altro pezzo di qualità aggiunto nel frattempo che chiaramente vi sto portando con me dove devo andare ho precisato alcune cose quelli che vi ho detto e ho preferito appunto fare questo video oggi fortunatamente il tempo è abbastanza buono e quindi purtroppo ogni volta che volevo fare questo tipo di video oppure volevo fare la presentazione a questo tipo di contenuto pioveva quindi magnifico ciclista scusi però lei deve stare un po più a destra sono i carabinieri qui vediamo andiamo piano tutti quanti convinti no perfetto c'è solamente una macchina che deve girare e noi però possiamo passare qui perché ci passiamo signori e vai c'è l'acceleratina e dentro attenzione fossettino iniziano le macchine del sabato mattina ragazzi state buoni con queste macchine ok viene qualcuno visto che guidate un po' a minchia dalle mie parti sai com'è sto attento visto che la patente gliel'hanno data con i punti della conad o alcune volte anche con i punti dei gelati ogni tanto c'è sempre il cane qui che che mi rincorre salve come va sto facendo casino vabbè fa niente ok qui dobbiamo fare una curva un po' stretta meglio frenare sai com'è un po' di enduro tra poco o anche qui eh forse anche qui con tutti questi fossi non so se dalla telecamera si nota il il dislivello ma ce n'è e parecchio pure direi che sono arrivato a destinazione io spero che il video possa essere stato di vostro gradimento spero sia uscito un buon video lo vedremo su youtube e e niente per altri contenuti di questo genere restate sottotizzati sul canale e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.